Adesso è ufficiale, dopo le ultime travagliate ore di confronto, se finalmente giunti all'accordo dopo l'ennesimo tavolo di centrodestra, i candidati sindaco a Campobasso e Termoli saranno Aldo De Benedittis per il capoluogo regionale e Nico Balice per la cittadina adriatica. Fondamentali le mediazioni del presidente della giunta regionale Francesco Roberti e dell'europarlamentare Aldo Patriciello, che hanno portato al definitivo accordo. La coalizione di centrodestra si legge nel comunicato in maniera unita, individuato nelle persone degli avvocati Aldo De Benedittis e Nico Balice e le figure di sintesi per dare alle città di Campobasso e di Termoli una guida forte ed autorevole. Concretezza, visione, competenza, onestà e servizio delle nostre comunità saranno la base della nostra visione, guardare al proprio futuro con rinnovata fiducia. La coalizione di centrodestra ringrazia gli amici e i militanti che si sono resi disponibili alla condivisione delle scelte, anteponendo l'interesse della coalizione alle proprie legittime aspettative. La nota è stata firmata da tutti i partiti della coalizione Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Popolari per l'Italia, Udc. Domani alle 11 ci sarà la presentazione ufficiale di entrambi i candidati al Centrum Palace di Campobasso.